elmo protettivo dei vigili del fuoco della confederazione jugoslava possiamo notare il fregio in rilievo applicato in un secondo momento con la stella rossa che contraddistingue la federazione jugoslava prima del suo scioglimento la forma tipica dell'epoca ricorda proprio un elmo medievale ma in realtà era in dotazione ai vigili del fuoco rinforzo un crestino di rinforzo superiore materiale alluminio i rivetti sono in metallo ben rifinito lavorazione semi artigianale chiusura con moschettone soggolo in cuoio con fibbia metallica e all'interno una semplicissima calotta in pelle regolabile tramite l'accetto sottopannato in lana infatti si possono notare alcuni buchini di tarma sostanzialmente tenuto in ottime condizioni